ARGUMENTUM AD NOVITATE Madonna quanto diavolo latino. Caro amico, ti parlo oggi dell'appello alla novità, noto anche come ARGUMENTUM AD NOVITATE. Troppo spesso ci lasciamo sedurre dall'idea che qualcosa di nuovo debba essere per forza maggiore o più corretto di qualcosa di vecchio o tradizionale. Ma è davvero così? Non dobbiamo dimenticare che l'innovazione non è sempre sinonimo di progresso e che a volte le idee più vecchie e consolidate sono quelle che hanno resistito alla prova del tempo. Non dobbiamo sottovalutare la saggezza del passato solo perché qualcosa è nuovo e scintillante. Dunque, la prossima volta che ti trovi di fronte a una scelta, ricorda, non lasciarti ingannare dall'effetto della novità ma valuta con attenzione tutti i fatti a tua disposizione. Solo così potrai fare la cosa giusta. E anche per questo effetto abbiamo finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!